Hai la fortuna di lavorare in una città che si affaccia sul mare come San Benedetto. Le agognate ferie arriveranno solo ad agosto e nel frattempo rimani in ufficio per otto ore al giorno. Inevitabile allora che per te, forzato nel lavoro estivo, la pausa pranzo rappresenti un momento di evasione, eventualmente da vivere in spiaggia, consumando un pasto veloce o concedendosi un tuffo in acqua. Quest'anno però a rovinare le delizie delle pause pranzo al mare o delle cene in riviera, ci si sono messi i parcheggi a pagamento. Una pausa di un'ora costa 50 centesimi, 2 euro per 5 ore e 5 euro per una giornata. Al di là del prezzo, la beffa sta nel fatto che le colonnine per i ticket non sono facilmente rintracciabili. Se si affretta e ci sono posti disponibili, non è proprio il massimo vagare sotto al soleone in cerca del parchimetro. Insomma, la pausa pranzo a pagamento non piace proprio ai fanatici del mare. Sì, ho pagato, è giusto che sia così purtroppo. Anche se non vedo tutta questa necessità di pagare un parcheggio, visto che sta a metto, già ce ne sono pochi di parcheggio, poi dobbiamo anche pagare fino alle 2.44. Io poi devo scappare per lavoro, quindi appoggio un attimo per circa una mezz'oretta e poi scappo. Oltre a pagare il ristorante dove vado, devo pagare anche dove devo stare la macchina. Purtroppo è questo. Effettivamente i gestori delle concessioni balneari segnalano la riduzione di clienti negli orari di pranzo e cena. I parcheggi si pagano dalle 9 alla mezzanotte e chi si vuol fermare per un pasto veloce preferisce rimanere in centro dove non si paga dalle 13 alle 15 e dalle 21 in poi. Franco Capparucci dello Scialella Medusa lancia la proposta di fasce orarie di parcheggi a pagamento sul lungomare. Il cliente del parcheggio l'avrebbe sicuramente apprezzato. Voglio dire, chi si ferma solo per fare un pranzo veloce piuttosto che la cena si ritrova a venire qui e all'onere del pranzo e della cena deve aggiungere l'euro, il 2 euro per il parcheggio. Diremo, sono 2 euro. Oggi si sta attenti anche ai 2 euro perché io lo vedo dalle vendite. Oggi si sta attenti anche a combattere il gelato al figlio, la pizza, a maggior ragione a fare pranzo e cena. Secondo me regolarizzato con una fascia oraria di rispetto nel non pagare nell'orario di pranzo e cena poteva essere sicuramente una cosa per noi più giusta. Poi magari sicuramente per chi avessi parcheggi a pagamento no. Grazie a tutti.